Essere attenti a raccontare ciò che accade nel territorio, ma soprattutto educare i lettori perseguendo i valori cristiani e l'etica, sono le sfide che i giornalisti dei periodici parrocchiali locali affrontano ogni giorno. Un vero e proprio impegno morale che è stato passato in rassegna nel corso di un incontro formativo organizzato dall'Ordine dei giornalisti a Barletta, presso la parrocchia San Paolo Apostolo, per un confronto che è stato incentrato proprio sul rapporto tra comunicazione e fede. Noi siamo attenti alla comunicazione, a raccontare il territorio, però siamo attenti anche a educare quelli che sono i nostri potenziali lettori, i nostri lettori effettivi. Il tema delle fake news è ovviamente un tema molto importante anche a livello locale, a livello così ristretto, perché l'effetto di un'eventuale notizia falsa, di una notizia non corrispondente alla verità, più ristretta è la dimensione e più è grave l'effetto. La sfida di essere giornalisti cattolici, che quindi vuol dire, quello che dicevo prima, educare i nostri lettori con uno sguardo che è quello del Vangelo alla fine e quindi è proprio la sfida che noi quotidianamente portiamo avanti. Dare un'informazione veritiera è il messaggio cristiano che i giornalisti devono recepire per il bene della comunità. Dobbiamo dare giustizia a tutto, giustizia alle parole, al vero significato delle parole, ai concetti e soprattutto cercare di fare questa chiarezza, perché la chiarezza nella giustizia ci permette di dare un'informazione vera, veritiera, pulita, chiara, come poi è il messaggio della parola di Dio, vera, veritiera, pulita, chiara, perché possa riempire il cuore di ogni credente e di ogni persona.